Turismo e il sindacato domani all'ex tonnare di Avola via iniziative. La CGL di Siracusa promuove la campagna Mettiamo il turismo sotto sopra, lanciata dall'articolazione categoriale del terziario della CGL, la Filcams, sulle condizioni dei lavoratori del settore turistico con lo slogan Dalla parte giusta del turismo. L'obiettivo è innanzitutto informare i lavoratori dei loro diritti principali, dichiara Alessandro Vasquez, segretario generale Filcams e CGL, che annuncia così l'iniziativa che si terrà sabato 22 luglio a partire dalle 19 all'ex tonnare di Avola e che anticipa di una settimana quasi quella che si svolgerà a Brucoli il 28 luglio, allo stesso orario in Piazza Belvedere. Abbiamo deciso di incastronare le nostre iniziative in momenti e giornate con grande movimento. Insieme con la categoria del settore scenderà in campo la CGL di Siracusa. Pensiamo che il turismo, dichiara Roberto Alosi, segretario generale CGL di Siracusa, possa davvero rappresentare un volano di sviluppo di questa provincia, ma serve che le istituzioni, i comuni e le aziende decidano di fare rete. La mancanza di una visione imprenditoriale non consenta a questo settore di generare occupazione sana.